IBM è da sempre attenta a quella che è la tematica dell'inserimento dei giorni nel mondo del lavoro, rendiamo chiaro a chi ci ascolta il concetto. Sì, IBM è attentissima su queste tematiche, soprattutto in questo periodo particolare, questo momento storico particolare. Fatto sta che oggi siamo qui, noi vantiamo una storica presenza qui al campus di Salerno, di Fisciano e quest'anno siamo qui e abbiamo in Italia lanciato una importante iniziativa, questa nuova entità che è il Clean Innovation Center di Bergamo e siamo qui a Salerno oggi anche per valutare e selezionare candidati che possano poi far parte di questo centro. Ecco, parecchi colloqui che avete sostenuto insieme al collega di IBM, quali sono quelli un po' più interessanti o i profili un po' più interessanti che sono potuti balzare all'occhio? Sì, abbiamo incontrato finora tanti giovani, Fisciano vanta una storica tradizione riguardo appunto dopo la laurea in informatica e in ingegneria, per cui abbiamo valutato, abbiamo ricevuto questi curriculum, li stiamo intervistando le persone, anche per esempio le persone in laurea in matematica riteniamo importanti e perché no? Abbiamo anche incontrato altri giovani con altre lauree anche in discipline che forse sembrano non essere vicini all'informatica, però per esempio un paio di persone con laurea in biologia che con tutta l'iniziativa che si sta facendo nell'era del cognitive, vedi l'esempio del progetto Watson Health, potrebbe essere importante l'accoppiamento dell'informatica con il trattamento di dati anche biologici o anche di altro tipo.